Come risolvere così il problema riguardo alla barra delle applicazioni che non fa vedere così le applicazioni sulla barra? E' possibile risolvere l'errore andando direttamente su tasto destro, su start, qua sopra, vai su gestione attività, vai su dettagli explorer.exe, termina attività su explorer.exe. Una volta fatto, non ti preoccupare se lo schermo è grigio, vai su esegui nuova attività e scrivi explorer.exe ed ecco che ritorna così il desktop. Una volta fatto, clicca sempre su explorer.exe e fai riavvia attività. Se non dovesse funzionare, vai su editor del registro di sistema, tasto destro sopra e segui come amministratore. Una volta entrati così nell'editor, vai su hk-local-machine, vai su software, scendi fino a giù fino a trovare Microsoft, scendi fino a giù fino a trovare Windows. Quindi hk-local-machine, software, Microsoft, Windows, current version, shield, update, package. Questo qua. Quindi adesso, qua sopra, fai tasto destro sopra, nuovo, valore di Word 32 bit. Questo valore fai rinomina e lo vai a chiamare, vai a chiamare un docking disabled. Fai copia, rinomina e metti questo parametro qua, on docking disabled. Clicchiamo sopra, dati valore, metti uno e fai ok. Ora, vedi se la barra dell'applicazione, quindi le apprese si sono tornate. Come ho detto, se adesso clicco su start, non metti a via start. Quindi vai direttamente a schiacciare il tasto start, quindi schiacci il tasto start su la tastiera, quello là che ha il logo di Windows, come questo, più la lettera R. Scrivi regedit e fai ok. Così ti apri questa schedina del regedit e elimina un docking disabled. Hai ricevuto questo problema. E riavvia il sistema. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.